Questo è l'incartone che dà un colpo decisivo col suo smash laterale a Fox sulle rovine in Brawl Questo è l'incartone che fa la stessa esatta cosa a Fox sullo stesso scenario nel nuovo smash Guardate il casino che sta succedendo Guardate, in Brawl ci sono quattro scintille che partono in giro Quattro fili di luce Qua è un casino assurdo È quasi troppo forse Fulmini neri, bianchi Pezzi che sembrano rotti È un casino insomma, è bellissimo Per un attimo ho pensato che fosse tipo un ultra combo o roba simile L'incartone Ma a quanto pare questi saranno Saranno l'animazione che avranno i colpi Non so se i colpi decisivi Nel senso che si saprà Si saprà quando si viene colpiti Che quel colpo è irrecuperabile Con tutta la directional influence E whatever che ci metti Sei morto Oppure se è semplicemente un colpo così Che è molto probabile che sia un colpo da KPO Molto bello naturalmente Sarà poi un piacere vederlo in movimento Beh, non c'è altro da dire Vi ringrazio Sorry se è un po' tardi Ma... Avevo da fare a scuola oggi E... E niente Ci si vede forse questo weekend Bisogna era vedere Grazie per l'attenzione E alla prossima Con Sakura E! Ehi!